Prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie. E di questi minuti un annuncio a sorpresa che sta gettando nel panico tutti i fan della nota cantante. La nota rocker sarebbe alla prese con seri problemi di salute. Dopo il ricovero in ospedale, ecco arrivare l'annuncio che lascia tutti di stucco. Loredana Bertè ha vissuto un momento di grande apprensione proprio prima del suo concerto a Roma. Lo scorso 11 marzo, la cantante 73enne ha dovuto annullare la sua esibizione al Teatro Brancaccio a causa di un improvviso malore. Il suo team ha riportato su Instagram che la Bertè è stata fermata da un dolore addominale improvviso, che ha richiesto il suo ricovero ospedaliero e l'impossibilità di esibirsi sul palco. Questo ha segnato un momento difficile per la cantante, che si stava esibendo nel suo tour iniziato il 5 marzo a Milano, dopo il suo successo al Festival di Sanremo con la canzone Pazza. La serata si è trasformata in un'esperienza da dimenticare per Loredana Bertè, che è finita in ospedale poco prima del suo concerto al Teatro Brancaccio. Questo malore improvviso ha causato l'annullamento dell'evento e ha richiesto accertamenti medici approfonditi. La cantante, giunta a Roma la sera precedente, si trovava in attesa di esibirsi per il suo pubblico. Dopo il malore, è stata trasferita in una clinica privata vicino a Gianicolo, dove è attualmente sotto osservazione per ulteriori esami. Non è ancora chiaro se il malore attuale sia collegato ai precedenti problemi di salute o se ha origini diverse. Il suo prossimo concerto a Torino è in programma per la settimana successiva, ma al momento è incerto se le sue condizioni le permetteranno di esibirsi. La data annullata al Brancaccio verrà recuperata il 15 maggio 2024.